È di questa mattina il ritrovamento di un'altra scritta Novax nei pressi della scuola Aldomoro di Via Tricca ad Arezzo. Secondo gli inquirenti la scritta sarebbe stata avvergata in un vialetto secondario rispetto all'ingresso principale lo stesso giorno in cui è comparsa anche quella di fronte al cancello. Anche questa volta è stato celere l'intervento da parte dell'ufficio manutenzione del Comune di Arezzo e della Polizia Municipale e le scritte sono già state cancellate. Sulla Tricca stamattina sono emersi un'altra scritta con sempre la solita mano, si presume. Io ho fatto un sopralluomo insieme alla scientifica della Polizia di Stato, ma siccome era in un punto molto nascosto sicuramente sarà stata fatta nella solita notte. Sì, è già stata rimossa, è stato cancellato tutto. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha censurato il gesto e ha ribadito che Arezzo non fa e non farà mai un passo indietro. Intanto sono già state presentate regolari denunce alle forze dell'ordine anche per gli attacchi Novax che avevano preso di mira alcune testate giornalistiche aretine, tra cui anche Arezzo TV. Grazie. Grazie. Grazie.